E ora? E ora 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 ora. Sono arrivati fino a l'albero. E io ne sono sbagliati ancora. C'era fino della prima volta. Ma va, ma va non va mica bene. Anche questo lo spostate. Coggiù! Questo è il mio trotto così. Cazzo ha fatto a spostare questo? Si è vero, si sposta. C'è un cazzo da fare. Sì Vito, ma te sei fuori. Sì, se ce l'ho dentro e pulito qua basta. Se lo metterai mai. Piano che mi fai male, porcone. Dove sono i ferri? Ah, dietro di te va. Poi con l'acqua li tirà fuori di nuovo. Abbiamo trovato quello che è il tuo pane. Si. Non pensavo cazzo. Cazzo c'è una forza che... Boh? Lo mettiamo in piedi e poi lo mettiamo così. Sì, poi hai dovuto farlo ruotare. Cazzo che ruota. Cazzo che ruota. Adesso? Adesso ci sono le ruote qui ma di là. Cazzo. Già un rischiato legato. No, devi scivola. No, vieni la scivola. No, ma perché devo stare a fare fatica? La c'è lì. c'è anche un ginocchiere io serve a casa tutti i giorni pensassi al giorno rinchi dai che ti riprendo è l'obelic del motoclatt a me fa po' perché prima dovevamo poggiarlo qui e scivolava fino a là la potenza della natura io ti posso aiutare un pezzo ma non riesco prima di mettere le mani ha fatto così come guarda Zambi ho iniziato a lamentare prima ancora di uno come lui che fa i giorni su è un po' che bella una vita tua ma io ti dico il parattino no io li fanno molto male guarda ho detto che mi fa male ho detto che mi fa male giusto l'appoggiato l'appoggiato ma c'è un braccio sotto c'è una grande braccio passa e fuori una volta te la salvo l'uomo te la questo qua è quello che fa tutto dritto ancora là dopo mi sposte se no c'è giù come c'è fatto così adesso sotto le balli ma che tolno indietro piano che va giusto graffiarlo che non ce lo cambia in garanzia dobbiamo trasfilarlo poi qua adesso lo mettiamo giù adesso cade dentro prima è indietro o lo mettiamo a posto di qua che si appoggia lì ma intanto non serve a niente ma anche se se lo metti dentro nel buco piatto e ci vai dentro col piede è sempre mezzo metro meno profondo però se lo appoggiamo davvero sopra lì ma lo porta via se no lo mettiamo qua dentro adesso lo tiene tu arrivi qua sai il problema che metti il piede la prossima volta se non lo troviamo ci penseremo no è che sono lontano eppure cazzo c'è arriva è pericoloso stesso capito perché questo prima o poi cade ma tu scendi di qua e ti fidi a appoggiare la ruota davanti lì su questo sì su quello là sopra questo non mi cazzo poi appena la paglia va dentro no no io parlo di qua tutta la dentro qua lasciarlo sotto che gli fa da appoggiare io come là ho detto qua allora ma questo qua cazzo metti la ruota fa così vai dentro no dobbiamo poterla se la punti la ruota qua lui si deve farlo scivolare se la puoi scivolare non va bene perché quando arrivi qua si allarga e poi da dentro e portarlo lì a girarlo ma se lo alziamo lo buttiamo si rompe ancora no oramai bisogna cosa facciamo lo alziamo o trasciniamo? no trasciniamo ehi sì prova a alzare ribaltare uno due hai detto che lo vado a fare scivolare non fatemi ridere non buttiamo facciamolo viaggiare ok adesso di là ok adesso mettiamolo giù fai ancora io farei ancora così che ci allontaniamo dal buco ok ok dai adesso di qua se dovrai il cervello lavorare senza le cervelle dite che erano avanti a seguito oh lo mettiamo giù lo mettiamo giù andiamo dentro il buco a piedi lo indirizziamo come vogliamo appoggiamolo senza romperlo ma dove siete? adesso è il problema aspetta vai avanti ancora un pochino così? vai avanti ancora un pochino appoggiamolo adesso appoggiamolo adesso dopo lo facciamo scivolare appoggiamo? sì ma piano e io non riesco a tenerlo per un po' lo tengo dopo faccio il piede però lì ci lascia il piede bravissimo guarda che c'è la caccia mi è salito un brutto posto occhio spampi che se cade giù ti cade sui piedi va che se cade ti va sui piedi se no entrano gli altri a scaricare in discarica no no nel senso che vanno se no vanno dentro in discarica oh facciamo girare va esatto piano e occhio alle mani lì si fa posto per far sbala questo lo possiamo ributtare dentro ma adesso ma le veri scusate un po' di qua no ma adesso però spazio perché se ti cade giù che adesso lo spostiamo se ti cade giù va che viene d'osso ando via per me potevo c'erlo da così no no dobbiamo poggiarlo là no no Marco poggiarlo dai l'ultimo sforzino dai il marchino uscire la pizarola ma non certo piano io andrei anche dentro ma non può cadere sul figlio dai 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 lo mettiamo un po' in qua lo ha spostato di qua no Zampi via di lì che se ti cade addosso ti spacca le gambe e lo lasciamo qua e lascialo lì a Zampini lo possiamo spostare un po' in qua a Zampini diciamo qua dentro no piuttosto che faccia male ovvio a non farlo cadere giù troppo però dobbiamo soltanto spostare un pelino oh 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 no ancora un pezzetto solo un pezzettino buono adesso lo alziamo di là lo buttiamo là l'ho appoggiato là c'è un po' le verine mettilo qua dobbiamo spostarlo è l'unico è lui che riesce a alzare dai che ce la fai con le verine aspetta metti sotto mettilo sotto dai ma dobbiamo riuscire la mano e basta tutti insieme tutti insieme dai sto lontano ti fai male se ti cade addosso stai sotto allora spostatelo voi dai maestro vieni di qua vieni di qua oh vieni di qua vieni di qua vieni di qua vieni lo butti dentro perché lo alzi va dentro lo butti dentro da qua bisogna alzare bravo non ce lo posso